Dopo una curva in mezzo alla carreggiata, in galleria, due asini sono improvvisamente apparsi davanti agli occhi di un camionista che ha avuto riflessi prontissimi, con due rapide e precise sterzate, prima a sinistra, poi a destra, e riuscito ad evitare un impatto che avrebbe avuto conseguenze tragiche per i due animali, ma probabilmente anche per lui. Il video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della galleria, è apparso sui social nelle ultime ore. Si tratterebbe di uno dei tunnel della Statale 36 situati dopo l'abitato di Mandello. 3.07 del 17 gennaio 2022, l'ora e il giorno impressi sul filmato, catturato con un cellulare poi condiviso e diventato presto virale. Il mezzo pesante, un'autocisterna, sta procedendo in direzione colico, quando all'improvviso trova sulla sua strada, dopo una curva, la coppia di asini, un adulto e un cucciolo. Che chissà come e perché hanno deciso di avventurarsi all'interno della galleria. Lo scontro sembra inevitabile, ma il camionista, con invidiabile sangue freddo, riesce a revitarlo. Con una decisa sterzata a sinistra, schiva per un soffio i due animali. Poi con una controsterzata a destra, si rimette in carreggiata ed evita a sua volta di finire contro una delle pareti del tunnel. Il conducente, superato lo shock, ha avvertito della presenza dei due quadrupedi sulla carreggiata. Quello che è in gergo automobilistico viene chiamato test dell'alce, utile a provare la capacità di una vettura di evitare un improvviso ostacolo in corsa. Da oggi sarà chiamato test dell'asino. Da oggi? Sì, da oggi. Ok, sì, molto contenta. Sì, sì, contentissimi. Anche se la portiamo perché negli luoghi pubblici ci vuole. Sono contenta, le dico che io non seguo le regole strette, nel senso che le seguo in maniera mia personale, anche quando non c'era l'obbligo della FFP2 su treni, io la portavo perché ci tengo alla mia salute. Molto contente. Come mai? E perché c'eravamo stufate della mascherina. Come mai la porta? Perché mi tiene lontano dal raffreddore, dalla tosse, da tutte le cose. Così per sicurezza ancora qualche giorno. Ce l'ho qui nel sacchetto e non so se aprirla o no. Cosa dice lei? Siamo felicissimi, siamo liberi. Va bene così, meglio così. Però bisogna stare sempre attenti ed essere prudenti. Va freddo e penso che di inverno lo porterò sempre. Io prima di maggio la mascherina non la tolgo. Per me è fondamentale proteggersi. Mi piace la mascherina, fa bene. Io a dire la verità me la levavo anche prima perché con tre dosi io mi ritengo a posto. Rispetto gli altri ma quando cammino e sono all'aria aperta io voglio respirare. Secondo me sì perché le restrizioni avevano senso fino a quando c'era una situazione molto più complessa, difficile e preoccupante. Adesso che i dati a livello anche nazionale stanno migliorando probabilmente un po' più di libertà viene apprezzata da tutti. Sì, non so, ma io la porto lo stesso. Perché non si fida? Mica tanto. È meglio aspettare qualche giorno ancora. Forse ci siamo anche abituati ormai. Siamo in fila vicini, la teniamo ancora. Poi la togliamo. Sono due anni che la metto e andrò avanti a metterla sempre. Meglio, meglio l'ha aperto senza mascherina. No, io penso che sia arrivato il momento di eliminare un po' tutto quanto, anche perché non è più possibile. Secondo me dovremmo convivere ormai con questo virus. Da oggi si può. Eh ma a meno una settimana, dai. Abbiamo ancora un po' paura, la toglieremo. Con calma perché quando hai più di 70 anni cerchi sempre di tutelarti. Eh sì, è un piccolo segnale di un ritorno alla normalità che ospecchiamo tutti. Andiamo verso una decisa normalità. Penso proprio di sì, grazie ai vaccinati però. Contenta, finalmente. Sì, sì. Siamo da Ucraina, in Ucraina. In Italia da quanti anni? 20. Che parenti hai in Ucraina? C'è l'unico figlio, c'è la mia mamma, c'è la mia sorella, mia nipote. Adesso voglio pace per tutto il popolo di Ucraina. Hai riuscito a sentirla in queste ore? Sì, 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 ho sentito. C'è una piccola nipotina, appena c'è la cinque mesi, che si è nata. Siamo senza parole, vogliamo pace, pace, pace. Hai riuscito a sentire sua mamma? Sì, la sento ogni giorno, ogni ora. La situazione è molto difficile, però ce la faremo. Siamo forti, siamo un popolo molto forte. Le lacrime di Cristina, il pianto di Irina, la preoccupazione per i fratelli, i genitori, gli amici, nascosti nelle cantine come fossero bunker, chiamati alla guerra. Il cartello tra le mani, quasi minuscolo per la grandezza del messaggio, no alla guerra. Le parole più forti durante il presidio organizzato dei sindacati, insieme al coordinamento per la pace e la cooperazione che raccoglie diverse associazioni lecchesi, sono le loro. Badanti, studentesse, giovane arrivata l'Eco grazie al progetto di soggiorni terapeutici dalla regione di Cernigov, la guerra in Ucraina ha un volto lecchese, è il loro. C'ho mio fratello che è andato a fare la guerra, miei cugini, miei tutti dove abito nel mio paese hanno portato quasi tutti gli uomini. Sono un po' lontano, sono di Leopoli, del Vivo, ma stanno portando tutti quanti i nostri parenti via. C'ho la mamma preoccupata, piange per figlio perché non si sa se torna a casa, mi prevelo. Sono russa, sono russa però qui a supportare il pace, io sono contro la guerra e tutti i miei amici sono tutti contro la guerra. Quindi sono qui a supportare la mia amica che è ucraina e ha dei parenti in Ucraina e io piango ogni giorno per lei, per la sua mamma, per tutti. Un centinaio le persone in piazza Diaz di fronte al municipio di Lecco, acceso dai colori nazionali dell'Ucraina. Una follia inaccettabile le parole di Grazia Caio, presidente del Comitato per la Pace. Il degenerare della situazione in un conflitto globale è un rischio che non ci possiamo permettere, ha ribadito Fabio Gerose, rappresentanza dei sindacati lecchesi. Il richiamo è al dovere della comunità europea di essere territorio di pace e di futuro, il monito del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni. Svetlana pensa alla nonna e ai cugini a chi ora combatte sotto le bombe. Con la famiglia sempre vicino a Cernigov, che ho lì la nonna, ieri non si riusciva neanche a contattare perché talmente sono forti gli spari, talmente sono forti le esplosioni, talmente ravvicinate che ti bloccano anche la linea e non riesci neanche a contattarli. E la cosa più brutta è proprio non sapere, non sapere cosa succede e non riuscire a contattarli. A volte ti viene proprio noi la voglia di prendere valigie e tornare a casa, di andare pure noi, perché non sappiamo nemmeno come dobbiamo aiutare. L'unica cosa è pregare, pregare, pregare e avere la speranza. Mai così basso le piogge degli ultimi giorni non sono servite a compensare la siccità di tre mesi. E così oggi, 6 aprile 2022, il livello dell'ario registrato a Malgrate batte il record storico. Meno 30,1 centimetri sotto lo zero idrometrico, valore superiore al precedente record registrato nel 1949. Il parametro non si riferisce all'altezza assoluta dal fondo, ma rispetto al valore preso come riferimento, ovvero 197,33 metri di altezza sul livello del mare. L'indicatore serve a prevenire situazioni di rischio. La soglia di attenzione è posizionata a 120 centimetri sopra lo zero idrometrico, livello al quale si verifica l'esondazione del lago in piazza Cavour a Como. 20 centimetri ancora in più e si registra la soglia di allarme. Altro dato da record negativo è l'afflusso. Anche in questo caso mai si era registrata come oggi una quantità d'acqua così bassa in ingresso dal lago, poco più di 21 metri cubi al secondo, valore molto più basso dei 26 registrati nel 2003, finora record assoluto il 6 aprile. Per completare il quadro, il valore della portata, ovvero l'acqua che esce dal lago, oggi è registrata a 40 metri cubi al secondo, il doppio del minimo. Questo perché favorire l'uscita dell'acqua dal lago alzando la diga di olginate è l'unico modo per continuare a garantire del flusso minimo vitale le strutture che operano a valle. A oggi è il livello più basso consentito per legge. Guardando le curve, è del tutto evidente che la primavera 2022, in particolare il mese di aprile, rischia di registrare il record assoluto negativo per il nostro lago. Le previsioni danno piogge nella giornata di venerdì e all'inizio della prossima settimana. Nei prossimi giorni, inoltre, le temperature primaverili faranno sciogliere la neve caduta la scorsa settimana. Speriamo tutto ciò contribuisca a invertire la tendenza e a scongiurare record negativi, oltre che problemi ad agricoltura e industria. Dopo 4.500 km si è concluso trionfalmente il Giro d'Italia del Motovelo Club Lecco, Fabrizio Bianchi presidente. Allora, le prime impressioni quali sono state, le prime emozioni arrivando a casa? Felicissimi di aver portato in giro per l'Italia il nome del Motoclub e di Lecco, che hanno tutti apprezzato e alcuni la conoscono perché ci sono stati. È stata un'esperienza fantastica e siamo fieri di questa cosa in cui ci ha appoggiato l'amministrazione comunale di Lecco e le città dei motori. Abbiamo fatto un bellissimo giro, come festeggiare i cent'anni, se non così. L'accoglienza anche di Lecco, come in tutte le città dei motori, è stata splendida e veramente entusiasmante. Grazie a tutti. Giro stupendo, posti stupendi. La nostra Italia ci svela sempre dei posti meravigliosi che non conoscevamo. Roma è stato il clou, ma comunque tutte le altre città ci hanno regalato delle ottime soddisfazioni e un'ottima accoglienza. È stata fantastica. Dove abbiamo bussato ci sono state aperte non solo le porte, ma proprio gli interi palazzi per aprirci le loro bellezze, le loro arte, anche la loro cucina. Perché effettivamente abbiamo fatto un giro d'Italia da nord a sud, veramente tutta l'Italia. In tutta l'Italia abbiamo trovato ospitalità e la voglia di far comunità. Un enorme grazie davvero a Motoveloca per aver portato la nostra città in giro per l'Italia. È stata un'emozione grandissima vedervi arrivare, un coinvolgimento magnifico della piazza, tantissima gente venuta a salutarvi e per cui davvero abbiamo bisogno di gente appassionata come voi che attraverso lo sport porti il nome della città di Lecco in tutta Italia. Grazie davvero, grazie. Ecco, un'ultima cosa e teniamoci pronti perché ci hanno invitato tutti a vedere le loro città. La piccola non più sarà a piazzale Riccardo Cassina, fondatore dei Ragni, inventore dell'alpinismo moderno. È stata intitolata l'area a due passi dal centro, destinata a diventare il nuovo polo attrattivo di Lecco. Lasciate alle spalle le polemiche sulla mancata dedica all'ostello, maggioranza e opposizione hanno votato compatte questa scelta. Venerdì, nel mezzo dell'iniziativa Piccola Playground, il momento tanto atteso alla presenza dei figli e dei nipoti dell'alpinista. C'è voluto un po' di tempo, ma però diciamo che siamo riusciti al meglio di quello che pensavamo, perché in effetti al momento sembra ancora così, però vedo che già si pratica dello sport, che a Lecco praticamente bisognava andare negli oratori, nei piazzali degli oratori. Oggi si fa in una piazza pubblica, per cui mi sembra che questo qua è già un movimento in più. Siamo davanti, come diceva il sindaco, davanti al Politecnico. Abbiamo dietro le montagne, più bello di così non si può dire. Suo padre cosa avrebbe pensato di questo? Beh, è difficile da dire, però sono sicuro che sotto il resegone, che è stata la montagna che lui ha salito per la prima volta, quando nel lontano 1924 è approdato a Lecco, gli farebbe sicuramente piacere. Al di là di tutto, gli farebbe piacere più che altro questa cosa. Come ha detto il primo cittadino Mauro Gattinoni, Cassino è stato alpinista, imprenditore e partigiano. Un monito per le generazioni future. Da una parte la gang con a capo Simbala Rue, dall'altra quella con Baby Touche, governate da regole di fedeltà reciproca e di omertà e protagoniste di reiterati episodi di violenza, seguiti all'aspra conflittualità determinata dalla rivalità nella diffusione delle rispettive produzioni musicali, scrivono i carabinieri della compagnia Milano Duomo, che in queste ore hanno eseguito nove arresti, otto in provincia di Lecco. Una faida tra bande rivali, con pestaggi, rapimenti, accoltellamenti, sangue e video postati sui social. Affare da sfondo, le nostre montagne e il nostro lago. Gli arresti a Verderio, Calozio Corte, Introbio, Garlate e Lecco. In ospedale, dove era ricoverato dopo essere stato accoltellato a Treviolo, è stato fermato Simbala Rue, direzione il carcere di San Vittore. In manetta anche il suo manager, Chakib Munir, detto Malippa, casa Calozio Corte, e poi i due giovani già fermati con droghe e pistole in Viale Turati. Tutti nordafricani di seconda generazione, a parte il bergamasco Marco Locatelli, tre destinatari del provvedimento del GIP Guido Salvini, nell'inchiesta del PM Francesca Crupi, Dunque, Mohamed Lamine Saida, 28 anni, nato in Tunisia, residente a Merone, accusato tra l'altro di sequestro di persona e lesioni su Mohamed Amine Amagour, il rapper Baby Touche, che il 9 giugno fu picchiato e tenuto dentro un'auto per due ore, rapito a Milano e l'è lasciato a Calozio Corte. A Simba e ad altri cinque viene contestato inoltre un episodio di rapina, consumato il primo marzo 2022, ai danni di due giovani del gruppo di Baby Touche, che sarebbero stati pestati e colpiti anche con un coltello per rubargli un portafoglio o un cellulare. Un fatto che, stando agli accertamenti, sarebbe stata una risposta ad un'alta aggressione subita da un ragazzo del gruppo di Simba. Sempre Simba, con altri tre, tra cui il suo manager 24enne, avrebbe preso parte al sequestro e danni di Touche, tre per Padovano, l'avrebbero accerchiato in via Boifava a Milano, preso a calci e pugni e poi caricato su una macchina, tenutoli dentro per due ore, mentre sul suo account Instagram, ma anche su quello dei suoi aggressori, venivano pubblicati i video di quanto stava accadendo. Bande che, secondo le indagini, agirebbero come delle gang per ottenere una supremazia sulle altre. Anche l'agguato di metà giugno a Simba Larou, in provincia di Bergamo, era stato rivendicato sui social da uno dei giovani del gruppo di Baby Touche, episodio su cui sono ancora in corso le indagini. In manetta è anche una ragazza, Sara Ben Sala, vent'anni appena compiuti, casa Verderio. A lei spettava il compito di sedurre i rivali. L'invito a cena era una trappola per far scattare il pestaggio, poi puntualmente postato sui social. È morto Alfredo Schiappoli, lecchese, artista eclettico. Nato nel 1943, figlio di un partigiano, insegnato storia dell'arte nelle scuole superiori lecchesi. Primo vero interprete della contestazione generazionale, nel 1969 Schiappoli inventa il personaggio di Apil Sovversivo, raffigurato sempre sotto sopra. Le sue vignette prima escono per Linus ed Epoca, poi collabora con il Corriere della Sera e per vent'anni con Panorama. Dalla politica alla religione, insieme a padre David Maria Turoldo e a monsignor Gianfranco Ravasi, Schiappoli si era dedicato a riflettere sulla Bibbia, dipingendo fra gli altri salmi, cantici e l'Apocalisse. Consigliere comunale per il Partito Comunista, nel 2003 era stato proclamato cittadino benemerito. Lo scorso maggio la città gli aveva tributato onore presentando al nuovo cinema Aquilone un documentario a lui dedicato. Uno in fondo esorcizza i propri fantasmi con le magie che conosce. Allora una volta la magia può essere dovuta al colore, un'altra volta alla parola, ma l'unico tratto comune, ripeto, è la persona. In questo caso sono sempre io, non è, credo, una forma di eclettismo, è una forma di bisogno di coerenza con me stesso, e per cui un solo linguaggio non mi acquieta. Ti manca forse la musica, il comporre musica. Teatro, l'hai già fatto? Sì, però anche questa è una ben curiosa storia. È una delle cose che mi fanno in realtà più soffrire. Io mi chiamo Alfredo perché mio zio, colui che mi ha tenuto a battesimo, si chiamava esattamente come me, Alfredo Chiappori ed era un musicista. Ecco, però la non possibilità di aver penetrato questo muro della musica la sento come una mancanza. Ecco, rimandiamo tutto alla prossima vita perché poi in verità non si può fare tutto. Massi enormi sono precipitati sull'asfalto. Solo per un fortunato caso della sorte non si registrano vittime, ma soltanto due feriti non gravi. Una frana è caduta questo pomeriggio poco prima delle 14.30 sulla nuova Lecco Ballabio. Le rocce sono crollate all'ingresso della Galleria Giulia, nel territorio comunale di Lecco, zona di Versasio. Hanno abbattuto il muraglione situato tra la carreggiata e il versante montuoso. Poi hanno invaso la sede stradale. In quel momento transitava sulla SS36 Dir il furgoncino di un fruttivendolo d'introbio. Il veicolo è stato travolto da uno degli enormi massi, come mostrano queste fotografie, scattate dall'interno della galleria e sbalzato contro l'altro muro di contenimento sul lato opposto della strada. All'interno del mezzo c'erano due uomini di 66 e 24 anni che miracolosamente non hanno riportato lesioni importanti. Sono usciti con le loro gambe dal furgoncino e si sono messi in salvo. In seguito sono stati raggiunti dai mezzi di soccorso e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non preoccupano. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, la polstrada e i tecnici ANAS. La strada è interrotta e l'unico collegamento con la Valsassina ad Alecco è ora garantito dalla vecchia provinciale, con tutti i noti disagi. Ancora presto per ipotizzare possibili tempi di riapertura, resta il tema della fragilità di un territorio che tristemente torna ad attualità a ogni ondata di maltempo.